Pasquale Luiso è il nuovo centravanti del Piacenza, l'acquisto è stato ratificato ieri sera e tu da oggi sei a disposizione della società Biancorossa, qual è il tuo stato d'animo? Sono veramente contentissimo perché arrivare in Serie A a 26 anni è una grandissima soddisfazione, però io ringrazio il direttore Marchetti che ha avuto tanta fiducia in me, è il mio procuratore che ha lavorato tantissimo per quest'estate, comunque io posso solo promettere che ci metterò nel massimo impegno per cercare di ringambiare questa fiducia che queste persone hanno in me. Senti le tue caratteristiche, sappiamo che sei un centravanti d'area, uno che segna quest'anno ha realizzato 20 gol all'Avellino. Sì, diciamo così che sono una punta centrale, però non è che sono un tipo statico, mi piace muovermi sia a destra che a sinistra, niente, diciamo così che la mia caratteristica migliore è il colpo di testa, aspetto magari, ho sempre giocato a zona, magari con l'interversione dalle fasce sono bravo in anticipo, in area di rigore, comunque, come ti ripeto, non sono un attaccante stabile, faccio tantissimo movimento e cerco di farmi trovare al posto giusto. Senti, un soprannome per te è il Toro di Sore, questo la dice tutta, nel senso che probabilmente sei uno che si butta, che ci dà dentro. Quando vado in campo, come dicono, mi trasforma, però, niente, ecco, quando uno va in campo cerca di dare sempre il massimo, a me magari mi hanno messo questo soprannome che quando vado in campo sono un Toro, mi auguro che pura più...